Un cordiale saluto a tutti i nemici campanari. Io sono la nonna del campanale della Spezia. Vi volevo far vedere il presepe che ha fatto. Per me è molto suggestivo e bellissimo. Adesso dovete decidere voi. Allora amici, come vi ho già fatto vedere ieri, questo è l'albero. Oggi lo rifaccio vedere così le persone lo vedono. Accendiamo tutto così vediamo tutto. Sono in casa di mia nonna. Ecco qua, guardate. È una meraviglia ragazzi. Qui abbiamo il primo presepe, quello vero, dove c'andrà poi il signore che se non mi ricordo male l'abbiamo messo qua. Questa invece è la foto che ho fatto a Gesù, che poi questa qua andrà attaccata qui, dritta, possibilmente in questo modo, sopra il presepe. Ok. Adesso andiamo a vedere invece il presepe sull'altare. L'altare è chiaramente fatto da me. Qui ci sono innanzitutto le due candele che verranno accese dal 16 per fare l'albero. Ricordate come si chiama? Sì, la processione natalizia. Questo qua invece è, diciamo, la capanna dove è nato il signore che l'ho fatto in una maniera bella. Aspettate, eh. Manna, spegni la luce. Qui abbiamo tutti i re magi, abbiamo San Giuseppe, la Madonnina, qui ci sono altre figure, qui c'è la stella cometa e qui ce ne abbiamo due. Questa è quella rossa, poi vi faccio vedere quella brillantinata. Qui c'è la candela, adesso con questa batteria la accendiamo. Guardate che spettacolo. Però, spegniamo la luce così si vede meglio. Io non inquadro i miei nonni perché non lo voglio, non vogliono. Ragazzi, ora mia nonna darà un suo commento, poi direte voi. Viene può dare il tuo commento, dai. Cosa direi, Sì? Cosa diresti? Ha detto che per me è suggestivo, è bellissimo. È semplice, ma è bellissimo. Sì. Eh sì, ragazzi. Ora faccio vedere invece la stella quella brillantinata, che è dall'altra parte. Il bello è che questo telefono, ecco, c'è anche la luce, guardate. Guardate come brilla la stella. Qui c'è il resto del presepe. Qui adesso vi faccio vedere che qua andranno messe in ordine tutte e nove le candele della novena. In un altro mio video ho parlato della processione natalizia, potete andarla a vedere tranquillamente. E qui se vi ricordate l'ultima volta non c'era questo, ma c'era, ma c'era ancora, questa roba qui. Il manifesto di Natale è la Madonna di Fatima e Santo Stefano con Gesù Bambino. Allora l'ho cambiato perché giustamente siamo a Natale e cambia anche tutto. Qui abbiamo, guardate un po', questo. Sto non inquadrando mia nonna. Ed ecco qua. Va bene, diamo i saluti. Buon inizio di Natale che comincerà a 16. Buon inizio di Natale che comincerà a 16. Ciao a tutti ragazzi.